Questa legge probabilmente per la prima volta dopo lungo tempo permette agli operatori del settore di avere un quadro chiaro delle richieste del legislatore ed è molto importante per quanto riguarda noi dal punto di vista assicurativo poter notare che la legge ha costituito un impianto un impianto all'interno del quale trovano a dimora tutte quelle attività che dovrebbero favorire il ritorno degli assicuratori verso questo scenario della sanità pubblica e privata che è stato abbandonato proprio per una mancanza di regole oppure è stato lasciato all'interpretazione delle regole che man mano venivano derivate o dalla dottrina o dalla giurisprudenza Questo è un passo avanti che sicuramente ci permetterà di progredire, sicuramente avremo una fase iniziale non facile ma che comunque sarà soggetta di interpretazione che raffineranno sempre di più quello che dovrà essere l'approccio anche assicurativo e credo che questa legge sia veramente un punto di partenza molto importante per tutti gli operatori e ci auguriamo che anche gli assicuratori siano persuasi nel ritornare su questa scena in un mercato globale che non è più limitato solo agli assicuratori italiani ma noi dobbiamo essere interessanti anche per gli assicuratori a livello mondiale quindi questa legge ci avvicina di più a certi parametri europei che vedono le compagnie di assicurazione frequentare questi ambiti, questi scenari grazie 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 grazie